Grazie per avermi messo subito dopo Piff, così per ricordare le gerarchie. E niente, io ho fatto un solo film, come anche Piff ha fatto un solo film, e quindi insomma sto qui che non posso, anche io non ringraziare la RAI che mi ha dato fiducia e mi ha dato la possibilità di fare il famoso esordio cinematografico. Diciamo che mi ero preparato delle cose, ma le ha già dette tutte Piff anche meglio, quindi cercherò di improvvisare. C'è un grosso rischio a fare interventi come questi, intanto si rischia di essere un po' banali, si rischia di essere eccessivamente polemici o peggio ancora eccessivamente cerimoniosi con quello che poi fondamentalmente è uno dei primi, dei più grandi finanziatori che ha il cinema italiano. Si sente tanto parlare di cose tipo i giovani e io sono parte di questi, almeno anagraficamente, anche se poi mi sento un regista quasi di impostazione classica, quindi cambiamento, giovani. C'è una parola però che a me mi sta a cuore, che non ho ancora sentito, che forse su cui potremmo porre l'accento adesso, che è l'evoluzione, che ci richiama dei concetti un po' darwiniani. L'evoluzione è una cosa che va oltre la nostra volontà, l'evoluzione è qualcosa che accade a prescindere. E forse bisogna stare attenti all'evoluzione, che è un'evoluzione tecnologica, è un'evoluzione dei linguaggi, è un'evoluzione soprattutto del gusto dello spettatore. Una società di produzione deve stare attentissima a dove sta andando il gusto dello spettatore, in qualche modo all'obbligo morale di precederlo. Un film, a volte si ha la sensazione che si facciano dei film un po' rassicuranti, usando delle formulette già viste, delle cose che abbiamo già visto. E invece forse lo spettatore non vuole vedere una cosa che ha già visto, ma vuole andare oltre, e quindi c'è bisogno che ci si prenda un po' dei rischi. Un film rischioso forse è il film da fare, è la strada in salita. E ho detto tutto velocissimo, e ho finito prima, il che mi fa grazie, grazie, solo questo. Grazie. Grazie, grazie Sì.